Un delizioso piatto di gamberoni, esaltato dal limone e pepe rosa. Raccogliere 12 gamberoni, la scorza di un limone, e pepe rosa macinato. In una padella, rosolate i gamberoni con un po' d'olio d'oliva. Aggiungere la scorza di limone ai gamberoni e cuocere per un minuto. Cospargere i gamberoni con il pepe rosa macinato e mescolare bene. Disporre i gamberoni in un piatto, servirli con delle fette di limone.